Vediamo sindaco, ma per piacere mi faccio compagnia, ma assessore, scusi, non è che possiamo lasciare l'amico nostro qua, ma mettiamoci qua nel mezzo con questo ragazzo. Complimenti veramente perché avete realizzato, state realizzando un carro, che cosa rappresenta il vostro carro? Allora... Anzi l'ideatore chi è? Mio fratello. Perfetto, allora, ma tuo fratello, se mette da pari perché forse ha bevuto un pochettino... No, no, è la stanchezza perché qui il lavoro è... Eh, cosa rappresenta il vostro carro? Allora... Non mi dice che rappresenta il sindaco Gagano, altra volta, no? No, no, no. Qui c'è il bozzetto. Quello di sopra, quello di sopra. Il bozzetto quello di sopra, quello di sopra. Vi facciamo vivere effettivamente i divertimenti, oltre al lavoro che fanno questi validi giovani, perché c'è dall'utile al divertevole. Giusto? Allora, ricontiamo. Allora, c'è una volpe che è il pezzo centrale del carro, il pezzo di davanti che rappresenta la furbizia e l'intelligenza. Poi ci sono due folletti laterali che rappresentano l'ignoranza della gente che con la tecnologia vuole sentirsi volpe, diciamo furba. E poi tutto il resto è una sorpresa che scoprirete il 23, il 22 e il 25 febbraio a Palazzola Greco. Ma come è il ritaglio messo? Il 22 e il 23. Ascolta, come vivete? Come trascorrete la giornata nel cantiere? A che ore iniziate? A che ore finite? Che cosa mangiate? Racconta alle persone che poi saranno giorno 22, 23 e il 25 a Palazzola, diciamo che è bello, che è bello, ma non sapendo i sacrifici e poi i divertimenti che fanno. Sì, veniamo alle 8 di mattina e ce ne andiamo alle 4, 4 e mezza di notte e poi l'indomani di nuovo ce ne siamo alle 8, 8 e mezza e veniamo di nuovo qua. Mangiate qua, mangiate? Certo. E cosa mangiate? Le focacce, le pizze, i panini, quello che c'è. Sindaco, le chiedo umilmente scusa, io ho chiesto, come fai di nome? Stefano. A Stefano gli ho chiesto, come mio figlio Stefano, a Stefano gli ho chiesto come trascorre la giornata. Cominciano, sindaco, alle 8 e mattina e finisci nei 4 e notte e si mangiano focacce, però la cosa che non hanno detto è la sassiccia. Sindaco, glielo chiedo a lei, perché lei è un buon gustare, come mangia la sassiccia? Che tipo di sassiccia si mangia? No, qua abbiamo la sassiccia eccezionale, quindi qua siamo cresciuti, latte e sassiccia, quindi la sassiccia la frullavano e ce la davano per omogenizzato, quindi noi siamo qua e questi sono i giovani con la loro creatività, con la loro... Non si mangiano però i sfogliati che ha detto, le focacce, le focacce sono buone, pure buone. Non mangiano la salsiccia perché il fuoco arde e se può... No, hanno la brace, allora il bello di questo che loro, vedi, lavorano in armonia, qua c'è tutta la tecnica, la migliore tecnica ingegneristica, attenzione, quando tu vedi questi movimenti fatti con pompe idrauliche, con meccanismi arrangiati, attenzione, perché per mettere in moto un carro del genere ci vogliono dei meccanismi costosi, costi che loro non possono sostenere, perché il tutto si fa con parsimonia, con risparmio, anche se diamo i premi, ma sono dei premi limitati rispetto alla bellezza che loro riescono ad attuare. Qua non ci sarebbero, guarda buffa, per retribuire, per pagare questi ragazzi, non ci sarebbero soldi che bastano, perché c'è un sacrificio enorme, loro lo fanno per passione, a stendo riescono a recuperare forse le spese, a stendo. Ma questo lo si fa per il bene del Paese, quello che loro fanno, lo fanno perché amano il Paese. Sento quella che io dobilmente scusa, quindi il giorno 22, 23 e 25 di febbraio, quando sarà Palazzolo Stracolmo, come ormai da quando ce l'è siamo abituati a vedere, lo dica alle persone che ci stanno seguendo, che sono i migliori, come dice Buffa, i sacrifici effettivamente, perché loro vengono al Palazzo, che è bello, ci sono un applauso, però dietro questo applauso ci sono che cosa? Dietro questi applausi, dietro questo spettacolo che viene visto, magari dietro ogni cosa bisogna pensare il sacrificio che c'è. Rispetto al loro sacrificio c'è il freddo che prendono in questi cantieri che non sono riscaldati, ci sono le nottate che fanno, ci sono le cene che non si fanno a casa, ci sono le fidanzate che non si vedono. C'è una vita dedicata a questa loro passione, ma questa loro passione che poi è a beneficio della collettività, alla collettività palazzolesa, a beneficio delle attività soprattutto, perché se non ci fossero i carri non ci sarebbe il carnevale, e se non ci sarebbe il carnevale non ci sarebbe l'afflusso delle persone, non ci sarebbe tutto quel commercio che si viene a creare. Il divertimento, non ci sarebbe la continuità di questo carnevale storico, di questo divertimento che Palazzolo assicura sempre, con lo stesso standard, l'ha assicurato da anni, ci sono delle onde cicliche, c'è l'anno quando ti riesce bene, quando ti riesce poco bene, il tempo che non ti aiuta, perché ovviamente sono delle manifestazioni che si fanno in inverno, e quindi c'è il rischio della pioggia. Però, grazie a loro, grazie ai carristi, mettiamo in modo un meccanismo collaterale di divertimento, di sano, di divertimento a Palazzolo, che è unico nella provincia di Siracusa. Se qualcuno che vuole spendere, forse è stato un picciotto troppo in gamma, forse il nome che porti, perché tutti gli Stefano sono bravi. Ci ha aiutato tanto il sindaco, se non c'era lui tutto questo, non ci possa... E con questa parola io direi a questi amici, se possiamo fare un applauso. Maurizio Aiello, assessore di turismo, spettacolo, tutti i rubri che l'hai... Scusa, ma li hai aiutati a questi poveri giovani? Certo, siamo sempre... Non baciare le soldi perché... Che cosa gli dai? Un aiuto morale? Un aiuto logistico, dal punto morale, l'igazio ogni tanto, li sprono, li cerco di farli ragionare, perché poi nell'euforia cercano di spingersi oltre, quindi il carnevale deve rimanere una festa formato famiglia, deve rimanere un momento di divertimento, quindi tutto funziona quando nessuno si fa male, quando nessuno litigano fra di loro, quindi quando la sera del martedì ci andiamo a corregare tutti i contenti, vuol dire che è finito il carnevale ma ha vinto Palazzolo. Scusa, però un appello che ti chiedo, cortesemente, di fare ai milioni e milioni di persone che verranno il 22-25, come si deve comportare il pubblico? Perché voi come forze dell'ordine pare che vi stanno organizzando pure. C'è tutta un'organizzazione dietro. Dai un consiglio alle persone che... Faremo il piano di protezione civile, ovviamente i carabinieri sanno già come affrontare il carnevale per tradizione, avremo più uomini a disposizione, ovviamente il pubblico che viene al Palazzolo lo sa come comportarsi, perché è un pubblico che è affezionato al nostro carnevale, è un carnevale che si svolge in tutto il centro, in tutte le strade, quindi dove vai vai trovi divertimento, trovi musica, trovi gente che cucina, trovi veramente quello che è il nostro carnevale, la tradizione. Quindi un carnevale nel nostro intento che vuole essere veramente formato famiglia. Eccoci qua in un altro cantiere e parliamo con... Jacopo Branco. Ah, Jacopo, Jacopo, che bel nome che c'è, Jacopo ti chiedo scusa, in questo cantiere state costruendo, l'assessore con il sindaco, con il sindaco Carlo, buonasera, non ci potete beccare, io ho un pomeriggio che ne vedete. Noi ci stiamo facendo, il sindaco ci stiamo facendo un giro in tutti i cantieri per ascoltare la voce dei costruttori. Il sindaco è sempre presente insieme all'assessore, perché grazie a Dio abbiamo un sindaco con dieci in lote, ci vorrà ricassare come punteggio, punteggio? No, è perfetto come punteggio. Ascolta, cosa rappresenta questo caro che tu hai ideato e voi state costruendo? Stiamo rappresentando il carnevale con gli elementi principali del carnevale, quindi all'erchino, pulcinella, colombino, arricchito da maschere e coriandoli. E poi quanto tempo ci avete impiegato? Abbiamo iniziato ai primi di novembre, quindi 3-4 mesi per la costruzione di questo carro. Avete vell'età di vincere? Noi è il nostro primo anno, abbiamo 14 anni. Il primo anno che fa? Siamo un gruppo di ragazzi di 14 anni ciascuno, quindi noi puntiamo sempre a dare il meglio di noi, però poi noi speriamo sempre di vincere. Dove arriviamo? Come ho detto agli altri, a che ora iniziate i lavori in questo cantiere? Iniziamo appena terminiamo i compiti, quindi verso le 4, e poi lavoriamo il pomeriggio e continuiamo la sera fino alle 11 e mezza, mezzanotte. Ma ha mangiato proprio? Eh sì, sì. Cosa ha mangiato? Perché la gente è curiosa, voleva capire. Un sindaco si ha mangiato la salsiccia, perché lo conosciamo un po' No, sì, noi organizziamo mangiate con carne di cavallo, salsiccia e tutto, insomma, è un momento che passiamo anche insieme. Allora sindaco, se si può avvicinare anche l'assessore dove è? Uno segnalo l'assessore? Una bacchina, una bacchina questo qua. Una forma. Ah, una forma. Allora sindaco, abbiamo fatto... Sì, sai come si fa? Prima fanno il calco, prima fanno la forma con l'argilla, la modellano tutta, dopodiché, vedi, buttano il gesso sopra, buttano il gesso e poi esce fuori, questo è, c'è il maschio e la femmina, questa è la femmina sostanzialmente, e poi su questo mettono la carta peste. Sindaco, ma lei quando era ragazza ha fatto la costruzione di qualche calco? Ma tutti ragazzi. No, lei, lei. Sì, sì, come? Io ero con Turi Rizze, il famosissimo Turi Rizze che voglio ricordare, Turi Rizze è una figura mitica per il Carnevale di Palazzolo, loro i giovani non l'hanno conosciuto, ma era quello che per tanti anni faceva divertire tutta la provincia di Siracusa che veniva a vedere il Carnevale di Palazzolo, con i suoi casi famosissimi, con le allegorie soprattutto che sapeva mettere in pratica e con la sua grande genialità, lei si figuri... Ma è meno da lei, prima è meno da tu, quando siamo fuori e quando siamo cani, una volta sai improvvisò a Piazza Pretura dove c'è il bar Corsino, improvvisò una sorta di spettacolo perché il Carnevale a Palazzolo non è che era solo le giornate della domenica e del martedì, allora si faceva solo la domenica e il martedì, però nel periodo, dopo il 25 di gennaio, dopo la festa di San Paolo, la conversione di San Paolo, si cominciava con i veglioni a ballare e poi veniva il Carnevale, quindi tutte le sere, il sabato, la domenica, si ballavano i veglioni, i ragazzi si vestivano in maschio e c'era sempre Baldoria che durava anche un mese tutta questa Baldoria, poi lui una sera improvvisò, c'era il veglione a Piazza Pretura e improvvisò uno spettacolo e allora lo spettacolo c'era la banda e fecero il barbiere di Siviglia, quindi con la musica Figaro là, Figaro qua, fece sedere uno o una persona così promettendogli un regalo, dice tu fai questa cosa e così ci divertiamo e allora mentre lo legò nella sedia, quel signore stava al gioco, che stava al gioco e allora lui cominciò a fargli il barbiere di Siviglia la saponata, ma come gliela faceva questa saponata? Imbastò il gesso e con uno scopazzo cominciò a fargli questa cosa col gesso, Figaro qua, Figaro qua e la banda suonava, la gente è imbazzita letteralmente, allora dopo quando finì di fare tutta questa cosa, che quello lo ha riembito tutto di gesso, è dovuto scappare, si è perso per due settimane perché quello lo cercava e lo voleva ammazzare, cioè il turisizio era questo, era la correddia del carnevale palazzoletto. E con questo bello aneddoto, questo pericordo che ci ha dato il sindaco di Palazzolo, ormai gettonato in tutta la Sicilia, possiamo dire effettivamente buon carnevale, il 23 e il 22, il 23 e il 25, a proposito, cosa vuole raccomandare ai milioni e milioni di persone che verranno a vedersi il carnevale a Palazzolo? Io quello che voglio raccomandare è di venire, di gustare i nostri prodotti, soprattutto tutto quello che sarà offerto in piazze oltre, in tutti i locali, in tutti i locali che si stanno attrezzando per quest'evento con la nostra cucina tipica che è eccezionale, i nostri dolci soprattutto, che sono eccezionali, il nostro famoso cannolo di ricotta che è il prodotto dolciario tipico proprio di Palazzolo che ha un suo gusto particolare che si distingue da tutti gli altri cannoli di ricotta che si fanno in Sicilia. Quindi di attrezzarsi bene, di tenersi leggeri quando arrivano qua e divertirsi nella maniera più sana e bella che possa esserci e gustarsi questo bellissimo carnevale di sano e ricco divertimento. Ok, grazie Sindaco Gallo e Uolungo Gigi e Buffa, continuo così a seminare che sta facendo tanto. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie.